www.mesmerism.info Guarda la curta, guarda la curta! Il mio mediterraneo è finito! Che spettacolo! Sta venendo incontro! Sì, è lui! Oh, ha rotto! Chi va a mare e prende un pesce è normale, perdere un pesce è normalissimo! Anzi, chi non rompe pesci a mio avviso non va a pesca! Ho preso! Ce l'ho! Io dico! Una ferrata e apriamo! Ma è Nando? Avevo i motori! Avanti in là! Ci sono mille pesci sotto! E' il branco che conosco io! E' il mio branco! Mediterranean Jig! Tuna! Spin! Guardalo, anche tu! Eccolo là! Si inizia a vedere! Si! Guarda, ci dico proprio! Devi accenderla! Accendimela, grazie! Sarà un pesce! Un pesce bello qua! E' un tondo! Un petto! Sì! Ecco! Ecco, i toni sono in mangianza di nuovo! Noi andremo dopo! Sono i gabbiani che ci indicano dov'è la costa. Ma è stranotondaro, questo torno in basso dal pesce, adesso stabiliamo se è rinforzato. Eccolo. Dalla lunghezza è oltre il metro e trenta. Quindi direi che è un pesce oltre i trenta cento. Mando, stessi ne vieni dietro, eh? Sì, se iniziamo qua. Te lo rappi tu, Mando. È piccino questo, Mando. È un pesce... Guarda, guarda che grosso, Mando. Questo trenta chili fa. È un pesce forse un po' piccolino per quello che ci può interessare. Quindi vediamo se lo rilasciamo. È stato preso col jig. Eccolo qua. Ciao bello! Wow! Ciao Nós! Ciao! Ciao, ciao! Buongiorno! Ciao! Grazie a tutti.